Bel colpo! Razzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Centrato! 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 L'abbiamo preso! Centrato! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rimpazzato! Abbiamo un cingolo danneggiato! Centrato! Nel culpo! Centrato! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La piana ha preso. Grazie a tutti. 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 Bersaglio acquisito. Getiamo un altro bersaglio. Ci hanno presi. Tutti fuori. Grazie a tutti.